Chi ha in squadra? Alcuni vecchi amici Eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty due notizie molto importanti per voi la prima su Modern Warfare la seconda su Call of Duty Mobile Iniziamo subito Questa sera finalmente potremo capire qualcosa di più sul nuovo titolo targato Infinity Ward Avete capito? Bene perché alle 3 con l'Uzium quindi durante le 3 2019 che si sta svolgendo in questi giorni finalmente potremo assistere alla prima conferenza di Call of Duty alla prima conferenza dell'Infinity Ward Questa sera ragazzi vi voglio tutti quanti presenti a mezzanotte qui sul canale perché la seguiremo a quanto pare ci sarà una live intorno ai 30 minuti in merito appunto al Call of Duty Modern Warfare Che cosa ci sarà? Praticamente l'annuncio delle 3 Colussium panel vedrà la partecipazione del direttore narrativo dello studio dell'Infinity Ward Tyler Kurosaki dello studio art director Joel Hemsley e del direttore della campagna Jacob Minkoff che parleranno di Call of Duty Modern Warfare Durante lo show dello YouTube E3 Geoff Casegley che praticamente ospiterà il pannello Colussium E3 ha dichiarato che ci saranno alcune informazioni molto importanti e sorprese durante questa live dove appunto avrà come ospiti l'Infinity Ward ma dato che sono 3 personaggi tutti e 3 i 3 ospiti dell'Infinity Ward che si occupano della modalità campagna sembrerebbe che questa sera si parlerà soltanto di questo aspetto però noi la seguiremo per capire innanzitutto se faranno vedere qualche gameplay anche se soltanto della campagna e poi capiremo un attimo quali sorprese ci saranno appunto durante questo evento quindi vi voglio tutti quanti sintonizzati questa sera cerchiamo di iniziare anche un po' prima per vedere le prime informazioni seconda notizia che arriva direttamente dal profilo Twitter di Activision è arrivata la beta anche in Australia l'altro giorno praticamente è terminata quella in India adesso si è attivata la beta in Australia praticamente per averla vi basterà utilizzare il metodo che abbiamo pubblicato già diversi giorni fa sul canale quindi scaricare l'aggiornamento nuovo che perché perché praticamente adesso Call of Duty Mobile è arrivata alla versione 1.0.3.2 da tap tap e poi praticamente utilizzare il VPN per impostare il server australiano se avete problemi cercheremo di portare un nuovo video guida con tutti i passaggi ma dato che è molto semplice ve l'ho voluti dire così per informarvi comunque che si può riprendere a giocare Call of Duty Mobile praticamente con la beta australiana qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate vi aspetto numerosissimi questa sera per capire e scoprire che cose ci faranno vedere il nuovo Call of Duty in Modern Warfare e noi ci vediamo ad un prossimo video